Dal 22 al 29 di agosto a Matera, presso Piazza Madonna dell'Idris, Momart Gallery, Porti Urbani, una mostra fotografica di Mariano Doronzo. Come nasce l'iniziativa? La mostra è nata grazie a un contatto avuto tramite un socio che fa parte appunto del Momart, che ci ha proposto di poter ospitare questa mostra itinerante di un giovane fotografo di Barletta, di Trani, è lui che comunque fa il fotografo, un giovanissimo perché ha 29 anni, ci ha chiesto appunto di poterlo ospitare. Questa collaborazione è nata proprio con la volontà di poter creare delle reti perché per noi è importante poterle creare soprattutto in veste di quelle che sono le possibili collaborazioni anche future per quelle che possono essere anche le nostre iniziative. Così insomma grazie anche a Rossella De Palma che è la curatrice di questa mostra è partita questa iniziativa e poi in futuro arriverà anche in altre località e anche estere. Porti Urbani è un percorso che appunto il fotografo ha fatto durante i suoi viaggi all'estero ed è una rappresentazione diciamo di volti soprattutto di persone che ha incontrato durante questi viaggi e anche di luoghi che sono molto particolari e molto anche interessanti di questi luoghi che lui appunto ha esplorato. Il senso di Porti Urbani è proprio questo, io sono partita dall'origine del porto come momento di arrivo e partenza delle navi e quindi di merci, persone, storie e di vita e siamo arrivati ai Porti Urbani perché è quello che facciamo quotidianamente nella vita incontrare le persone e alle volte alcune persone ci emozionano. Non c'è musica che può tenermi questa notte solo senza di te, supestite nel baratro delle nostre vite il suono degli archi intrecciati, delle viole che rincorrono i violini sul battere del pianoforte sprofonda negli anni andati attraverso la tua pelle erosea, nella tensione dei nostri fremiti pedalando forte in bicicletta al ritmo veloce del fiato corto giocavi a seminarmi nei deserti delle nostre insicurezze nella pericolosità delle nostre parole, così ingenue eppure così affilate Tivolti è stata la prima cosa che mi ha interessato della fotografia perché io sono partito da solo e molte volte, perché mi piace la solitudine però a volte l'ho anche sofferta e quindi in questo caso la fotografia è stato un mezzo per non restare solo, conoscere altra gente e così ho cominciato a fermare gente per strada gente a caso. Il messaggio è quello che non c'è un unico modo di vivere la vita e sembra che ci sia un solo modo di vivere quasi un po' stretto anche ho scoperto che in realtà ci sono tanti modi di vivere la vita e non sono per niente convenzionali, completamente diversi dal modo preconcetto che abbiamo noi di vivere la vita, che magari è una vita quasi già definita le mani sono una mia visione personale, è una parte del corpo che secondo me racconta tante storie, racconta le vite, oltre ai volti, le mani possono dire tante cose e in questa mostra abbiamo deciso di esporre solo tre tipi di mani da un uomo rumeno senza tetto e quindi consumate proprio dalla vita. Poi ci sono le mani di mio padre che sono un simbolo per me, sono pieni di calli, quindi il simbolo della famiglia, del sacrificio, quasi un senso di debito nei confronti delle mani di mio padre e poi c'è un'altra foto con le mani di Cristina che è una ragazza che ho incontrato a Nottingham italiana. In questa mostra abbiamo deciso di esporre solo tre nazioni che sono state le nazioni principali che mi hanno colpito di più durante il mio ultimo anno di vita, abbiamo l'Inghilterra che rappresenta la mia esperienza di vita presente, poi la Romania che rappresenta un viaggio che ho fatto per un viaggio esperenziale per visitare e scoprire qualcosa di nuovo e poi c'è l'Italia che è il passato, le mie radici che sono molto importanti perché credo che il punto di partenza sia importante per capire dove ci si muove perché le distanze sono relative quindi senza punto di partenza non si può misurare quanto lontano si va. La cosa che mi ha colpito di più è la bontà della gente che esiste ancora e che si apre e non ha paura di conoscere altre persone e ti accoglie come un fratello, come un figlio e questa secondo me è stata la più grande lezione che ho imparato da questo viaggio. Bisogna imparare a viaggiare anche stando fermi, attraverso gli incontri, ecco perché la mostra si chiama Porti Urbani, perché il porto è l'incontro e nel momento in cui incontri l'altra gente, altre persone, stai già viaggiando anche senza partire.